Forza, mettiamoci al lavoro. Anche se non sappiamo cosa mettere qui dentro. Magliette, vestiti e scarpe. Cioè, quello di cui ha più bisogno. Sì, pantaloni, insomma, un po' di tutto. Ah, bene. Posso? Certo. Ragazzi, vi ringrazio tanto di essere qui con me. Dico davvero, vi ringrazio tantissimo di essermi vicino in questo momento. Non devi ringraziarci, Vilo, noi saremo sempre con te. Perché saremo amiche, se no. Sì, è vero, amiche fino in fondo. Allora, cominciamo? Sì, cominciamo. Questa sì, questa sì.